Si segnala un unico intervento per incendio nel fine settimana per i vigili del fuoco chiamati in via Bosco di sotto a Rampazzo, località che si trova all'interno del territorio di Camisano Vicentino. I pompieri giunti sul posto in un ex fienile di campagna addibito a box rimessa per auto si sono attivati al fine di evitare che le fiamme sviluppatesi sabato pomeriggio dal veicolo fermo si potessero propagare nell'edificio. Nessuna persona coinvolta. I vigili del fuoco a corsi da Vicenza con i mezzi in dotazione hanno subito circoscritto le fiamme evitando il convolgimento dell'antigua abitazione da poco ristrutturata. E' andato bruciato tutto il materiale all'interno della struttura compresa la vettura irrimediabilmente compromessa. Per ora non si ha nessuna indicazione utile alla designazione delle cause che hanno dato origine all'evento. Grazie. 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 Grazie.